Ragazzi, il Natale non è ancora arrivato, io già non sopporto più nessuno Capirai, ammetta per agosto che m'hanno rotto il puntale del cazzo Non cominciamo, eh? Se può sapere che c'hai stavolta? I messaggi I messaggi di chi? Di tutti Ma quelli da auguri, dici? Sì, hanno cominciato dal primo dicembre, non ce la faccio più E vabbè, dai, e che sarà mai? Che sarà mai? Whatsapp a dicembre non è un'applicazione, è la fiera del glitter Aaaaaa Babbo Natali che volano Aaaaaa Case abusive in Lapponia Aaaaaa Senti Aaaaaa Aaaaaa Basti i ristrelli e ti dono sganassone che per torno indietro ti richiede un passaggio ai remaggi Oh, basta tutti e due, eh? Ma è normale che vi fanno gli auguri, è Natale Se scrivevano tanti auguri era normale E invece renne che parlano, orsi che ridono, erfi che ballano Più che auguri di Natale pare una serie su San Padrignano Questa settimana ho passato più tempo a cancellare i messaggi che a guardare i culi su Instagram Fai un po' tu Vabbè, ma si sa che alla gente gli piacevano a ste cose? Lo sapevo sì, ci hanno fatto pure la canzone Quale canzone? Che flagello sono gli auguri da dicembre in giù Da persone che è una vita che non vedi più Tanti auguri Clitterati su Whatsapp Troppi auguri Tutto me se sto fallando Che flagello sono gli auguri da dicembre in giù Ma Tassiano gli rispondi non la smette più Un copiancolla te conviene ma anche a te famiglia E cominci a via Anche a te famiglia E ti nevi d'alca Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Mamma mia non si può parlare con te È comunque una dimostrazione d'affetto Pensa se gli stavo antipatico allora I messaggi di Natale non sono una dimostrazione d'affetto Sono ma niente protagonismo Perché? Perché se te vi dono la vita reale Non capisco perché me devi venire a stalkerar nel metaverso Ma è il bello della tecnologia Raggiungere le persone lontane Ma se stiamo lontani il motivo ci sarà Sono molto d'accordo Una volta per i dolli bastava cambiare marciapiede Poi devi essere un ingegnere informatico Infatti Mannaggia Santa Claus Per me siete esagerati Ma che esagerati Tutto questo comunque è successo da quando ci stanno i messaggi gratuiti Dici E dico sì sì Dovevano pagare 8 euro a Renna Sa come ti pannavano auguri? No Con sta ceppa da bene Sì questo può essere Comunque io li odio i messaggi di Natale E il dubbio un po' c'era venuto Pure se io ancora non ho capito perché Per colpa di una ragazza Ma dai non lo sapevo Ma infatti chi è sta disperata? E' una che ho conosciuto al centro commerciale E com'è? Caotico E poi non si trova parcheggio Come la ragazza non al centro commerciale Ah la ragazza? Lei è bellissima Ah o c'è fosse una volta che dice che è una cozza Ma te stai zitto? E come l'hai conosciuta? Mentre faceva shopping? No Faceva la rappresentante in profumeria E come ci ha attaccato bottone? Ho comprato 600 euro di profumi Altro che bitcoin amico mio La moneta del futuro è la fregna Dici? Ah fregno valuta ma scherzi C'è un potere d'acquisto Che levate proprio Ma non gli è da retta E poi che è successo? Ci abbiamo cominciato a messaggiare Daie E poi? E poi a mandarci le foto Daie E poi? E poi si è vestita da Babbo Natale sexy Daie E poi? E poi si è levato pure quello Daie E poi? Gli ha mandato la foto da Stellone Comedo? No Che è? Perché piagni? Perché nell'ultima foto che mi ha mandato Con lei c'era pure uno nudo Come uno nudo? E da che l'hai capito? Si capiva benissimo credimi Ma da cosa? Credo dai 20 centimetri di erfo pelato Che c'aveva a mezzo le cosce Esatto Oddio D'altronde se lei era Babbo Natale Ti pareva che stava senza un pacco Ho capito E lui che c'entra? E che ne so Se vede che gli serviva una renna Ma perché ti ha mannato le foto sexy Si è impegnata? Perché volevano fare una cosa a tre Con te? Sì Dammi retta Lasciale perdere ste cose Che sono pericolose Perché? Perché è meglio essere renna Che mulo Ma in che senso? Nel senso che la renna C'è l'antenna Ma il mulo sa Basta Avemo capito E quindi devo lasciare perdere? Sì guarda È meglio così E quindi adesso? Io posso dire? Meglio te no Ma c'ero quasi T'ho detto te no Una volta sola No E allora io posso dire? Vabbè allora sì Oh e allora Buon Natale A voi e famiglia Mi viene un po' da piangere E mi raccomando Condividi il video Metti mi piace alla pagina Facebook E seguimi sul profilo Instagram Ah da oggi Ci sono anche il canale YouTube E il profilo TikTok Iscriviti Se no Vedi un po' da piangere